In questi primi 5 minuti intanto Brisco ancora Con Lutti da Brisco che non si prende il tiro Va in penetrazione, appoggia altri due Sulla sirena da molto lontano Clivis intanto è scivolato, si tocca le anche Brisco intanto va a schiacciare Un record del 50% questa stagione Di questo... In questo dicembre intanto Brisco Col fallo aumenta proprio il bottino per sé Due cronometri, si va da Brisco 6 secondi per attaccare Brisco in uno contro uno Ci prova Dare inizio all'azione offensiva Sbaglia però la tiene Brisco Antonuti gliela torna in un 1-2 in contropiede Brisco si appoggia Trava Brisco su di lui Clivis Brisco si gira, sposta Clivis Pesca in angolo nobile, tutto solo Brisco in post Alla fine riceve, è marcato da Pianegonda 7 secondi Va da Cusin Sbaglia rimbalzo di Brisco Che guida La transizione Si arresta dall'arco C'è Brisco Con 5 secondi Sul cronometro Brisco Brisco Palla a terra Si arresta Da 2 punti Sbaglia rimbalzo in un 2-3 in contropiede